A Napoli i militari della compagnia centro hanno denunciato un dodicenne perché nei pressi di via Chiaia giocava con un coltello di circa 15 centimetri. Lo faceva con alcuni coetanei puntando la lama al fianco e alla gola di alcuni di loro. L'arma è stata sequestrata e il minore è stato riaffidato ai genitori. Un gioco senza motivazioni e senza giustificazioni. I carabinieri del comando provinciale di Napoli monitorano con grande attenzione il fenomeno con campagne di sensibilizzazione che mirano alla coscienza dei più giovani ma soprattutto con la prevenzione sul territorio. L'attenzione è puntata soprattutto sulla movida e sui giovani ragazzi che non conoscono il limite tra il gioco e la serietà. Nei giorni scorsi durante il servizio di controllo del territorio in piazza Midagli d'Oro, gli agenti del commissariato Vomero hanno notato due uomini a bordo di uno scooter che a loro vista hanno tentato di eludere il controllo. I poliziotti li hanno raggiunti e hanno rinvenuto nel vano sottosella una pistola replica modello Bruni priva di caricatore e tappo rosso. Il conducente, identificato per un quindicenne napoletano, è stato denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Sono tanti gli episodi di denuncia e continuo i controlli dei militari che con occhio attento cercano di liberare le strade di Napoli dalla criminalità spesso sancita da minorenni.